Parliamo ora di selettori CSS. Abbiamo visto che una regola, CSS, è composta da un selettore e delle dichiarazioni. E queste dichiarazioni sono composte da proprietà e valore e ci sono appunto più di 200 proprietà e molti molti di più valori. E appunto mentre le proprietà più note sono colore, font size, background color, border, border radius e così via, i selettori sono invece diciamo fissi ma componibili in maniera diversa. Mentre le proprietà con i loro valori li scopriremo man mano che li utilizzeremo, essenzialmente, e sono tanti ma sono standard, sono noti, si possono combinare diciamo abbastanza piacere. I selettori esistono di vario tipo e appunto il selettore è un pattern, uno più pattern, utilizzati per appunto selezionare all'interno dell'albero, all'interno di questo albero. Quindi il selettore ci seleziona a quale elemento HTML, per esempio il primo, ci seleziona l'elemento body, ecco perché si chiama selettore. Il secondo ci seleziona l'elemento H1, ci seleziona tutti gli elementi H1 che ci sono in questo albero, in questo caso ce n'è uno solo, a cui applicare a quegli elementi un certo stile. Quindi ci sono vari modi per definire dei selettori. Non abbiamo visto uno, quello negli esempi, che è il selettore di elemento. E ci sono tre tipi principali di selettori più due, diciamo, pseudo-selettori. Il primo tipo di selettore, quello che abbiamo visto finora, negli vari esempi, è un selettore di elemento. Poi esiste un selettore di classe, un selettore di D, e poi tra i due e tre pseudo-selettori, un selettore d'attributo è appunto un pseudo-selettore vero e proprio. Il selettore di elemento è quello che abbiamo appunto visto fino a questo momento. Viene utilizzato per applicare lo stesso stile a tutte le istanze, a tutti gli elementi specificati in un certo documento. Quindi questo selettore H1 applica il proprietà colore rosso a tutti gli H1 presenti nel documento. Se ce n'è uno, lo applica. Se ce ne sono cinque, lo applica il colore rosso a tutti e cinque. E selezionate, scegliete un elemento utilizzando il nome del tag. H1, body, A, P e così via. Semplicemente il nome del tag. Esistono poi gli elementi, i selettori per classi. Invece di dire voglio applicare tutto a un certo tag, voglio applicare una certa classe, un certo insieme di proprietà ad alcuni di questi tag. E questi tag possono anche essere di tipo diverso. Quindi i selettori di classe servono per applicare lo stesso stile a tutti gli elementi che appartengono a una certa classe, che definite voi, voi sviluppatore, sia nel CSS sia nell'HTML. Quindi applicano uno stile specificato a un insieme di elementi che sono in qualche modo correlati ed identificati nell'HTML da questa parola chiave class uguale e una stringa. Di nuovo la stringa la scegliete voi e la stringa è quella che poi viene riportata nel file CSS. Cosa dice per esempio questo piccolo esempio? Dice che noi abbiamo una classe che chiamiamo blueText che di nuovo imposta il colore blu a qualcosa. Che cos'è questo qualcosa? Questo qualcosa è qualunque elemento che abbia questa classe. Allora nel nostro HTML che elemento ha questa classe? Nel nostro HTML questo P ha questa classe, quindi questa frase education in its general sense e così via diventerà blue, ma anche questo H3 ha questa classe. Quindi sia questo paragrafo di testo diventerà blue, sia questo header di terzo livello, try to teach, diventerà blue. Mentre il header di primo livello non diventerà blue perché non ha nessuna classe. Ha un id che vedremo subito dopo. Notate una differenza tra come riportiamo una classe in HTML e come riportiamo una classe in CSS. In HTML scriviamo ovviamente class uguale nome della classe, in CSS scriviamo punto nome della classe. Questo punto è quello che dice al CSS che questo blueText, questa parola che appare subito dopo, è una classe e non è per esempio un elemento che non aveva niente davanti e non è neanche un id. L'id, il selettore di id è utilizzato in maniera diciamo analoga, simile a quanto capitava per le classe, ma per applicare uno stile a un elemento specifico in un documento. Quindi mentre il selettore di tipo classe serviva per applicare uno stile, un insieme di stili, a degli elementi collegati, degli elementi correlati, quantomeno logicamente, quindi volevamo applicare blueText a tutta una serie di elementi che ci permettessero di avere il testo blu. L'id serve per applicare uno stile a un elemento specifico. Notate che id, essendo un identificativo, dovrebbe essere univoco all'interno della pagina HTML. Quindi con questo selettore si può appunto specificare che è un insieme di stili da applicare a un solo elemento nella pagina ed eventualmente ai suoi figli se non hanno nessuna classe. Quindi per esempio applicando questo title message, che però qui non ci sono in questo caso. Quindi in questo caso abbiamo un id che si chiama title message, che avrà colore grigio e quindi avrà come risultato di rendere questo education is must grigio, un testo di colore grigio. Notate che per selezionare un id mettiamo il cancelletto davanti al nome dell'id e come per le classi questo nome è scelto in un certo senso dallo sviluppatore. Esattamente come text blue ma non ovviamente come gli elementi perché gli elementi sono invece quelli che si trovano nei tag HTML. Esistono poi questi selettori pseudoclassi, che sono utilizzati per stilizzare un elemento basandosi su qualcos'altro rispetto alla struttura del documento. Quindi non per un singolo tag che compare nell'albero, non per una classe che applicata a qualche elemento, non per un id che applicato a un elemento nella pagina, ma per qualcos'altro. Per esempio lo stato di un link. Allora i selettori pseudoclassi come si scrivono? Si scrivono qualcosa, due punti, qualcos'altro. Questo qualcos'altro è ovviamente noto ed è ovviamente specifico a quello che c'è scritto prima dei due punti. Quindi per esempio a, sappiamo essere un link, e allora a, due punti link, dice che tutti i link non visitati devono avere colore blu. A, due punti visited, vuol dire che tutti i link nella pagina, quindi tutto quello che ha come elemento a, ma che sono stati visitati, quindi che l'utente nel browser ha già cliccato una volta sopra il link, almeno una volta, devono invece avere colore verde. Quando ho un mouse, ha due punti over, dice seleziono tutti i link quando ho il mouse sopra questo link. Quando ho il mouse sopra questo link lo devo mettere rosso, allo stesso modo quando il link è attivo. Questa proprietà over esiste anche per esempio per le righe della tabella. Quando il mouse è sopra la righe della tabella trasformo, seleziono tutte le righe, di nuovo in questo caso, della tabella, delle tabelle presenti nelle pagine, e quando il mouse sopra il colore di sfondo deve diventare rosso. Quindi ci sono una serie di proprietà, di pseudoselettori, che sono applicabili a diversi tag. Ovviamente il visiti del link si applica a cose che possono essere cliccate, linkate, mentre l'over si può applicare sia all'a che al tr, per esempio. Poi ci sono una serie di attributi, un'altra tra le famiglie, diciamo di pseudoselettori, ci sono gli attributi, i selettori d'attributo, che si scrivono in questo modo, tutti in questo modo. Quindi parentesi quadra, qualcosa dentro la parentesi, chiusa parentesi quadra. Quindi questa tabella riassume il selettore a detributo base, qui c'è un esempio, dove target è un attributo, dice tutti gli elementi, quindi se voi scrivete aperta quadra, target, chiusa quadra, aperta graffa, color due punti blu, dite che di applicare il color blu ha tutti gli elementi che hanno un attributo che si chiama target. Non importa qual è il valore di quell'attributo, quindi tutti gli elementi HTML che hanno un attributo che si chiama target. Non importa quale sia il valore di quell'attributo, non importa se quell'attributo target è applicato a un link, è applicato a una tabella, è applicato a un p. Quindi non andiamo a identificare un elemento o un insieme di elementi basandosi sul loro appunto nome, sul loro tag, sulle classi o sugli id, ma secondo gli attributi che questi elementi hanno. Quindi questo si applica a tutti gli elementi con un attributo di questo nome, in questo caso target. Possiamo anche scrivere attributo uguale valore, quindi specificare che vogliamo attribuire un certo stile, un insieme di stili a un attributo solo quando assumo un certo valore, per esempio target uguale underscore blank, quindi seleziona tutti gli elementi con attributo target e valore underscore blank. Oltre all'uguale possiamo anche scrivere tilde uguale, dove diciamo che seleziona tutti gli elementi il cui valore contiene al suo interno la parola flower, in questo caso su un titolo, quindi può esserci scritto anche altre cose, ma ci deve essere sicuramente la parola flower all'interno del valore dell'attributo. Col simbolo di pipe è uguale, dove dice inizia con, quindi questo attributo, il valore di questo attributo deve iniziare con n, poi può essere c'è altra roba ma deve iniziare con n. Il simbolo del cappelletto è uguale, dice applico non a tutti gli elementi, ma agli elementi, in questo caso in questo esempio con il tipo A, il cui attributo href, il cui valore dell'attributo href inizia con questa stringa HTTPS, oppure il duale di quello, se il cappelletto indica inizia con HTTPS, il dollar significa finisce con, quindi in questo caso di nuovo seleziono tutti gli elementi di tipo A, il cui attributo href finisce con .pdf, oppure con asterisco uguale, quindi seleziono di nuovo in questo caso ogni elemento A, il cui attributo href contiene la sottostringa w3schools, da qualche parte. I selettori si possono poi anche combinare, quindi potremmo avere un selettore di elemento, punto una classe, cancelletto un id e un selettore di target, quindi in questo caso andiamo a dire un selettore di attributo, quindi in questo caso andiamo a dire applichiamo questo selettore di attributo a un elemento con una certa classe e con un certo id, quindi ha un a.bluetext che ha id ciao e un attributo target uguale underscore blank. Quindi andiamo a fare una selezione molto molto in questo caso precisa, ma possiamo ovviamente combinarli in questo modo diciamo estremo, oppure anche element attributo, come abbiamo visto qui, o anche element punto classe attributo, o anche element punto classe punto id. Nel caso volessimo andare a prendere solo un certo id, cambiare lo stile solo di un certo id quando è applicato una certa classe, in un certo elemento, per esempio. e i selettori si possono combinare, oltre che così scrivano tutto a ca, tutto insieme, anche con questi altri simboli. Quindi il primo selettore, virgola un secondo selettore è un'unione di questi due, il primo selettore spazio e il secondo è quando il secondo è dentro il primo, quindi un em dentro un div, per esempio, un em dentro un p, e quando s2 è un figlio del primo, quando s2 arriva dopo s1, non è necessariamente un figlio, ma viene dopo, quando s2, questa tilde, quando s2 viene più avanti, quindi non immediatamente dopo, ma più avanti che s1, quindi a un certo punto dopo s1 c'è s2. Qui c'è un riassunto di quello che in parte abbiamo detto, più il selettore asterisco che serve per selezionare tutti gli elementi, quindi punto classe seleziona gli elementi con una certa classe, cancelletto id seleziona gli elementi con un certo id, l'asterisco seleziona tutti gli elementi di una pagina, p element seleziona tutti gli elementi di tipo p all'interno della pagina, come prima, primo elemento, virgola, secondo elemento, primo selettore, virgola, secondo selettore, e come in questo esempio seleziona tutti i div e tutti i p, quindi l'unione di questi due, con lo spazio seleziona tutti i p all'interno dei div, col maggiore seleziona tutti i p dove il genitore è un div, il più seleziona tutti i p che sono posizionati immediatamente dopo, non dentro, ma dopo i div, e ogni, in questo ultimo caso, la tilde, ogni, per esempio, ul che è preceduto, non necessariamente immediatamente preceduto a un certo punto da un p. Quindi questi devono avere lo stesso parent e ul è preceduto a un certo punto da p e questi invece col p, a differenza di quello precedente, sono posizionati dopo, non all'interno del div. Quindi questo p è posizionato dopo il div, questo p col simbolo di maggiore, e invece dentro, come genitore, di p, di div. E giusto per ricordarci, quando parliamo di HTML, di tag, di elementi, di classi e così via, dobbiamo ricordarci che HTML serve per dare un senso a una pagina, serve per dare la semantica del contenuto della pagina. Quindi abbiamo tutta una serie di elementi che hanno già di loro una semantica, l'abbiamo già visti, gli header di primo, secondo, terzo, sesto livello, le liste non ordinate, ordinate, con descrizione, il grassetto e il corsivo, e così via. e gli id e le classi servono a dare un significato aggiuntivo a questi elementi di senso. Abbiamo visto l'altra volta che esistono anche elementi più generici, come il div e il span, che invece servono a dare struttura a un documento, soprattutto laddove non esistono degli elementi che abbiano un senso, che possono appunto aiutarci a strutturare il documento. E abbiamo visto che il div è di tipo block level, mentre lo span è di tipo inline. Quindi div sta per division, ed è appunto utilizzato tipicamente per raggruppare elementi a blocchi in aree di significato, a cui aggiungeremo poi noi, per esempio, delle classi, per dare un significato aggiuntivo. E il div è dato che è un elemento HTML senza, diciamo, un significato forte, e da utilizzare solo se necessario, se non ci sono alternative migliori, e non è ridondante. Per esempio, questo, dove c'è un div che contiene una lista non ordinata di elementi che sembrano una navigazione, home, about, contact, potrebbe essere rimosso il div, si potrebbe usare direttamente l'ul, oppure si potrebbero usare gli elementi semantici di HTML come nav e menu. E allora a quel punto togliere magari questi div, se questa è l'unica navigazione principale che abbiamo nel sito, come nav dovrebbe suggerire. Span è un, diciamo, cugino di div, ma è per gli elementi in linea. Quindi, di nuovo, come per div, utilizzarlo solo se necessario, se non ci sono elementi migliori e non è ridondante. Quindi, per esempio, questo, dove abbiamo un P con all'interno uno span, con data, con una classe data, che rappresenta davvero una data, e un altro span con una classe autore, che quindi avrà uno stile associato a questo testo, all'interno di questo P, può diventare time, invece di questo span class date, può diventare time con tag HTML esistente e valido. Mentre, quindi che ha un suo significato semantico. Mentre per autore, per esempio, possiamo lasciare span class author, perché non esiste un tag corrispondente da rimpiazzare. Quindi, ricordiamoci sempre, quando lavoriamo in HTML, anche se aggiungiamo delle classi, anche se aggiungiamo del significato tramite gli ID, di evitare il più possibile strutture come queste, che sono ambigue, sono un insieme di div, uno contenuto a fianco all'altro, uno dentro l'altro, come in questo caso, ma di utilizzare, se possibile, il markup semantico offerto da HTML5, quindi il div in fondo diventerà footer, questo diventerà ladder, questo sarà per esempio article, e questo div all'interno dell'article, che un'immagine sarà un tag figure, se necessario. Abbiamo detto che div e span servono per, uno per controllare, appunto uno come elemento di tipo blocco, e l'altro come elemento di tipo inline, esiste una proprietà in CSS, che si chiama display, che è una proprietà come le altre, che permette di controllare se un certo elemento deve essere visualizzato secondo la logica dell'inline o secondo la logica del blocco. E quindi vedete che per esempio non potremmo applicare a tutti gli LI che sono nativamente di tipo blocco, un display inline, quindi non fargli occupare uno spazio ampio nella pagina, ma solo lo spazio che gli serve e subito dopo farlo inserire un altro, oppure potremmo dire che uno span diventa di display block, anche se lo span è nativamente di tipo inline. Questo può essere utile, questo cambio di proprietà, se dobbiamo far apparire qualcosa in un certo modo. Per esempio, gli LI sono tipicamente messi in fila uno sotto l'altro, come in questa slide per esempio. Questi potrebbero essere degli item di una lista non ordinata. Mettendolo inline vorrebbe dire che qui, dopo questa parentesi tonda, ci sarebbe subito changing inline element to, eccetera. Quindi andremo avanti col testo, che in una slide non ha magari tanto senso, ma se pensiamo a un menu orizzontale di un sito, questo potrebbe avere più senso, avere una lista e in un certo senso orizzontale, rispetto a verticale, magari anche senza questi puntini. La stessa proprietà display, oltre che permettere di impostare un elemento inline o block, permette anche di nascondere un elemento con display none. Display none ha come effetto che l'elemento sarà nascosto e la pagina sarà mostrata come se l'elemento non ci fosse. Un parente, diciamo, un cugino di display è la proprietà visibility, che serve anche, anch'essa, per nascondere un elemento, ma a differenza di display, che proprio lo rimuove in un certo senso, come se lo rimuovesse dalla pagina, quindi se un elemento di tipo blocco, lo spazio che occupa questo elemento di tipo blocco non c'è più, diventa nullo, diventa zero, e la visibility nasconde l'elemento, visibility hidden, per esempio, nasconde l'elemento, ma lo spazio all'interno della pagina rimane. Quindi se noi abbiamo un blocco, fatemelo disegnare velocemente, pen, se noi abbiamo un blocco di questo tipo, se abbiamo una pagina composta con, diciamo, due blocchi, quindi se noi mettiamo display none a questo primo blocco, il risultato che otteniamo è che questo blocco viene tolto e questo primo blocco viene spostato in un certo senso in su, come se questo non ci fosse mai stato, il display none. Se invece applichiamo il visibility hidden alla nostra pagina, la nostra pagina è sempre è questa, questa è la nostra pagina, se applichiamo visibility hidden alla nostra pagina è come se invece questo sparisse, ma il blocco sotto non viene portato sopra, semplicemente qui rimane uno spazio bianco, uno spazio vuoto, occupato da niente, e questo blocco continuava a stare qui sotto, come se qui ci fosse qualcosa, è solo, diciamo, nascosto ma continua a occupare lo spazio che aveva nella pagina, mentre con display none anche lo spazio che veniva occupato nella pagina sparisce, quindi questo blocco assume una posizione più sopra, più in alto. Questa è una tabella che riassume i selettori di pseudoclasse, abbiamo già visto active, per esempio, esiste anche un after, un before, che vengono inseriti quando dopo prima il contenuto di, in questo caso un p, esiste un check per gli elementi di tipo input, esiste un pseudostrettore per dire il primo figlio di un elemento, quindi non un qualcosa che capita, che l'utente fa come link, per esempio, che è il link e il link non visitati, quindi non una cosa che necessariamente appare nella pagina, ma per esempio first child seleziona tutti gli elementi, in questo esempio, p, che hanno, che sono i primi figli del suo genitore, quindi solo il primo figlio di un certo genitore, oppure la prima lettera di un elemento p. Allora, notate che il due punti singolo è perché si riferisce a quasi sempre a un qualcosa, a una proprietà esterna o una proprietà, tipo questo p, il primo figlio, il p primo figlio di un contenitore, oppure tutti gli input che sono abilitati, una proprietà in un certo senso esterna dell'elemento, mentre i due punti sono un qualcosa, una proprietà, diciamo, interna all'elemento, quindi seleziona, per esempio, la prima lettera di ogni, quindi la prima lettera interna a ogni elemento, il p, la prima linea interna agli elemento p, e così via. Qui continuiamo, no, con un'altra serie di selettori, l'only child, quindi per esempio, seleziona l'elemento p che è l'unico figlio di un parent, quindi se abbiamo un div, un p, e poi subito chiuso il div, questo viene selezionato. Se abbiamo un div, un altro p, e un'immagine, questo selettore non seleziona quell'elemento perché ci sono altri figli di quel primo div. E così via.